Prima la cassaforte aperta con il flessibile svuotata dei contanti giovedì notte, poi mentre le forze dell'ordine cercavano di capire chi fosse stato, il tennis club Padova di Via Libia subisce un nuovo assalto. Tra lunedì e martedì i ladri hanno forzato le serrature della casetta in legno dei maestri con un piede di porco preso dagli attrezzi del club. Dal piccolo edificio hanno preso quattro telecamere GoPro, tre cavalletti e un hard disk rimovibile. Hanno poi aperto la macchinetta delle bibite per un danno, anche stavolta, di alcune migliaia di euro. E sicuramente chi ha fatto questo tipo di furti conosceva perfettamente l'ambiente e le modalità e gli orari di questo posto, dunque diciamo che si sta, tra virgolette, stanno indagando su qualcuno che potrebbe conoscere abbastanza bene questo luogo. La polizia sta esaminando le immagini della videosorveglianza che potrebbero portare agli autori dei furti. Un luogo non facile da proteggere il tennis club che dal 1912 sta in una grande area verde alla Sacra Famiglia tra l'Argine del Bacchiglione e il Centro Storico, con 450 soci e 170 atleti. Il direttivo ha già approvato la convenzione con un istituto di vigilanza privata e il potenziamento dei sistemi di allarme, ma il direttore si appella anche alle istituzioni. Bisogna intervenire in qualche modo, se possibile, anche in maniera non solo privata.